La posizione del camion, la prima cosa è accionare la pulsa. Prima punto, posizioniamo la pulsa, apertura di acqua rapida. Segundo, apretiamo l'embra del camion, posizioniamo la torre a forza. Poniamo la marcia. Poniamo la marcia. Poniamo la marcia. Alla possiamo regare. Con i due colori activati, accioniamo l'altra. Se vogliamo regare il settore d'erecho solo, lo invitiamo al settore d'izierro. Se vogliamo regare il settore d'erecho, lo invitiamo a l'izierro. E il settore d'erecho sempre. Alla possiamo regare il settore d'izierro. Grazie. Grazie per la visione!